Buonasera, siamo con Vincenzo. Intanto complimenti per il risultato di questa sera. Cosa ci dici della partita? Ma è stata una partita comunque abbastanza complicata e anche se il risultato magari potrebbe dire il contrario, ma ci siamo battuti, abbiamo giocato bene. Dobbiamo evitare di fare certi errori stupidi perché non siamo inferiori a nessuno e prendiamo troppi gol in genere. Cosa pensi serve per continuare questa serie positiva? Ma secondo me innanzitutto giocare spensierati, avere la consapevolezza di divertirci, il torneo comunque sempre amichevole e cercare di giocare sempre concentrati, non sto valutando niente e nessuno. Perfetto, grazie.